ciao qui siamo a napoli in piazza garibaldi dove soggiorneremo e dove inizia il nostro giro per napoli e adesso vi faremo vedere quello che abbiamo visitato in due e mezza giornate e nel mezzo abbiamo visitato anche procida e troverete il video sul nostro canale qui siamo a porta capuana una delle antiche porte di napoli le sue origini sono molte antiche infatti la sua costruzione risale al 1484 qui siamo a via dei tribunali in pieno centro storico qui vediamo pio monte della misericordia che è un istituzione fondata nel 1600 da sette nobili napoletani che decisero di dedicare la loro vita ad opere di bene napoli è storia tradizione ma soprattutto vita nelle sue vie questo è il duomo di napoli il cui nome ufficiale cattedrale metropolitana di santa maria assunta ed è la sede della cidiocesi della città di napoli qui siamo all'interno del duomo all'interno del duomo Qui ci troviamo a San Gregorio Almino, la via dei presemi. Grazie a tutti. Questo personaggio è Chaucho, una figura scaramantica napoletana per allontanare il malocchio. La Basilica di San Domenico Maggiore è retta tra il 1283 e il 1324. La Basilica di Santa Chiara. Ed eccoci a Via Toledo, una delle arterie principali di Napoli. Ed eccoci a Piazza del Plebiscito, che è uno dei luoghi simboli di Napoli, si trova nel cuore del centro storico alla fine di Via Toledo. Con la sua superficie di 25.000 metri quadrati è una delle più grandi piazze d'Italia. La piazza è circondata dalla Basilica di San Francesco di Paola. Palazzo Reale. Palazzo della Prefettura e poi c'è il Palazzo Salerno, che non ho inquadrato. Ed ecco la Galleria Umberto I, che è una galleria commerciale costruita tra il 1887 e il 1890, dedicata a Umberto I d'Italia. La cupola vista dall'interno. Questo è Castelnuovo, più conosciuto come Maschio Angioino, e fu costruito nel 1266. Il Cocanno non si è riuscito a visitarlo, ma qui vediamo una visuale dal porto e una visuale dal lungomare. A lungomare possiamo anche ammirare Castel del Lovo, che è il più antico castello di Napoli e fu costruito nel 1128. A lungomare possiamo anche ammirare Castel del Lovo. Questa è la fontana di Nettuno che si trova in Piazza Municipio. Non può mancare una visita alla fermata metropolitana della linea 1 di Toledo, che è ritenuta la più bella fermata metropolitana della Roma. Qui finisce il nostro viaggio a Napoli. Se il video ti è piaciuto, se ti va metti mi piace, e se vuoi rimanere aggiornato su nuovi contenuti iscriviti al canale. Ciao ciao al prossimo video.